In America viene commesso un furto ogni 11 secondi, un'aggressione ogni 65 secondi, un omicidio ogni 24 minuti. Arrestami, diranno che sono incapace di intendere e di volere. Qui la legge si ferma e comincio io. Io ti cavo gli occhi, parlo! Ti distruggo! Vuoi andare all'inferno? Vuoi venire all'inferno con me? Tu sei il male e io sono la cura.